I dati mostrano un bitcoin deboluccio, ma personalmente mi aspetto un settembre-ottobre con il botto. Qua sono tutti berra, sono tutti un po' tristi di come sta andando bitcoin, cerchiamo di analizzare un po' i dati e comprendere che cosa sta succedendo e che cosa ci possiamo aspettare. Qua sono su Pionex, una cosa interessantissima che voglio mostrarti è che con Pionex, ecco qua, ad oggi e per una settimana ci sarà un bel bonus di 50 dollari per fare trading. Adesso ti spiego i dettagli, però prima ti voglio spiegare che cos'è Pionex. Pionex è un exchange, a mio avviso il miglior exchange in assoluto per trading bot. Chi mi segue da un po' sul canale sicuramente già lo conosce. Chi magari è nuovo se stai vedendo per la prima volta un mio contenuto, ho già parlato diverse volte di questo exchange che è un po' sconosciuto rispetto a tanti altri, nonostante comunque sia molto famoso in Oriente, ed è un exchange che è diverso da tutti gli altri perché ha puntato e punta sulla creazione di sistemi automatizzati per fare trading, sia spot che futures. Tutti questi bot, ce ne sono veramente tanti, possono essere modulati, interamente modificati. Cioè si può fare veramente un sacco di cose, sono anche divisi a seconda delle fasi di mercato, ti suggerisci uno piuttosto che un altro. Sui futures possiamo anche andare con webhook in modo gratuito da qua, da Pionex, a collegare delle strategie che magari abbiamo in Pinescript su TradingView, quindi veramente focalizzato sui trading bot e qua dentro c'è veramente di tutto. Tra l'altro, cosa molto interessante, uno dei motivi per cui lo utilizzo è che come puoi vedere per lo spot ha in assoluto le fee più basse del mercato, ad eccezione fatta di tutti quegli exchange che attualmente sono in promozione, quindi hanno delle fee più basse, però tendenzialmente sullo spot si sta sempre sullo 0,1% di commissioni. Qua su Pionex, essendoci tantissimi tipi di automazioni, e ho fatto diversi video, magari te ne lascio qualcuno linkato qua sotto, e ne uscirà uno tra l'altro mercoledì estremamente dettagliato con qualche botto e genera bitcoin che utilizzo, ha una commissione ridotta rispetto a quelle tradizionali, perché tradizionalmente siamo su uno 0,1%, che significa risparmiare il 50% dalle fee, che non è assolutamente male. Detto ciò, abbiamo questa promo qui, a partire da oggi, ti basterà cliccare il link qua sotto, cliccare qua, qua ci sarà scritto inizia, perché non è ancora partito, io sto registrando in mattina, tra due ore sarà live, clicca inizia, crei un account gratuito su Pionex, email password, quindi classico account, dovrai completare il KYC di secondo livello, perché questo bonus, sono 50 dollari per la creazione di un futures bot, sarà dato solo ai primi 20 iscritti che completeranno il KYC. Nonostante Pionex sia un exchange che non richiede l'obbligo di KYC, in questo caso lo chiedono, perché se no uno magari si registra più volte, toglie posto ad altri e si prende i bonus. Quindi per evitare questo, si fa un account con il riconoscimento, sai che è quella persona lì, quindi danno questo bonus. Il bonus, abbiamo detto, sarà claimabile per una settimana, nel momento in cui tutti e 20 gli utenti lo acquisiranno, a quel punto non ci saranno più posti disponibili e di conseguenza decadrà. Affrettati, usa il link qua sotto, se ancora non ti sei registrato, per approfittare di questo bonus. Come funziona il bonus? Allora, verrà accreditato una volta completato il KYC entro 24 ore. Il bonus sarà erogato automaticamente e valido per 7 giorni per la creazione di un trading bot futures o per copiare uno dei bot di qualche altro utente. Per esempio, mercoledì, mostrerò due bot che utilizzo e li metterò in copia, quindi potrei utilizzare il bonus per copiare. Il bonus non è prelevabile, ha un trigger impostato, quindi uno stop loss del 25% del bonus e un take profit del 50%. Questo vuol dire che non posso prelevarlo, ma posso utilizzarlo e i profitti generati sono nostri. Quindi li andiamo a prendere noi. Ed è questo il grande vantaggio. Di fatto, Pionex paga le nostre perdite, quindi può essere un bonus estremamente interessante. Se uno vuole fare delle prove, delle strategie, testare o copiare qualche bot, può essere sicuramente molto molto valido e interessante. Quindi qua sotto ti lascio il link. Passiamo al nostro grafico. Qui vedi S, B, sono tutti i vari sell, buy che ho fatto nel tempo. Non stare a guardare questo, però è giusto per avere un'idea. Come dicevo nelle precedenti analisi del lunedì, tutta l'area che va più o meno da qua sotto in poi, generalmente negli ultimi periodi, è dove mi vado a posizionare in buy. Come vediamo ho comprato in quest'area qua i 53k. Ho ricomprato poi in quest'area qua, quindi più o meno tra i 49 e i 48 e i 50k. Qui avevo piazzato tutti i ordini a limite. Sapevo che il prezzo sarebbe tornato qui, perché? Perché in questo momento ragazzi ci troviamo obiettivamente, se proprio dobbiamo dirle, in un canale discendente, no? Quindi stiamo andando a scendere. Ed è questo che fa essere un po' bear il mercato in questa fase. Sono un po' tutti spaventati. Cosa mi aspetto personalmente? Grosso modo siamo sempre sulla stessa linea, no? C'è sempre la soglia dei 60k. Quando si è sopra i 60k, figo, sono tutti to the moon, via moon, si va moon, si va 80k, 100k e così via. Quando siamo sotto i 60k, che schifo, moriamo tutti, bitcoin è un ponzi, crolla tutto. Questo è il sentiment. Ma il mercato funziona così, ha sempre funzionato così. Noi che vogliamo essere investitori intelligenti, dobbiamo comprendere quello che succede e come posizionarci. In questa fase mi sto divertendo, come vedi qui, a fare compravendi, compravendi, qua e là. Non farlo anche tu, a meno che tu non sappia che cosa stai facendo. Fare trading o muovere capitale richiede comunque una certa soglia di rischio, una certa capacità. Se non la si ha, è meglio fare il classico piano d'accumulo. Compri, tra l'altro su Pionex anche automatizzato, compri nel tempo e ti togli la paura. Vediamo un po' di dati importanti per capire che cosa aspettarci. Io ho già detto in diversi video che mi aspetto settembre, ottobre e novembre come dei mesi potenzialmente bull. Perché abbiamo la Fed che abbassa i tassi e tendenzialmente appena inizia a abbassare i tassi la notizia viene scontata in positivo. Anche se in parte è già stata scontata, a mio avviso, però ciò non toglie che comunque una notizia che può essere ancora scontabile. Il buyback sempre degli Stati Uniti, quindi in missione di fatto di nuova liquidità. Le elezioni presidenziali, quindi c'è un trittico che a mio avviso è un trittico bull. A maggior ragione vedendo che la maggior parte di persone in questa fase è spaventata. Che prezzi possono andare giù? Cioè quando la maggior parte di persone tendono a essere ribassiste come sentiment è molto probabile, a meno che non ci siano situazioni particolari, ma è molto probabile che i prezzi da lì a poco in realtà vadano ad accumulare e poi crescere. Per comprendere questa fase qui andiamo a dare un'occhiata magari cosa succede sugli ETF. Non c'è stato chissà quale movimento, anzi è stato abbastanza piatto, almeno dal 14 al 30 vediamo che è andato via via scemando. Ci sono stati giusto dal 15 fino al 26, questa fase qui che è stata tendenzialmente positiva, che è comunque la fase che coincide anche con la positività che c'è stata sul mercato azionario dopo tutta la storia del Giappone. In questa fase invece dal 27 al 30 vediamo che siamo in uscita. BlackRock fermo, addirittura in scarico, che scarica raramente però a volte scarica. Fidelity e tutti gli altri sono più o meno in scarico, vedi c'è proprio piattume. ETF e TH, giusto per chi chiede, è inutile che ve lo mostri, è sempre giù. Come già dicevo, sì mi aspetto ETH a degli all time I importanti, però non me lo aspetto immediatamente nel momento in cui è stato lanciato l'ETF. Anzi, quando è stato lanciato l'ETF molti mi hanno chiesto cosa credi di ETH, pensi che arriverà a 10k con il lancio dell'ETF, devo accumularli. Quello che ho detto io è, no aspetta, accumularli, c'è tempo, c'è tempo per accumulare. Non facciamoci prendere dall'ansia, devo per forza prenderli ora perché poi via finisce tutto, va su, io non posso più comprare. No, calma, perché? Perché abbiamo grayscale, come vediamo, grayscale scarica a bestia. Dall'altra parte, gli acquisti cosa sono? Sono stati veramente spiccioli qua e là e prevalentemente, come vediamo, tutto a zero. Cosa significa? Significa che manco se lo stanno cagando, cioè non esiste per loro. Perché? Perché con un bitcoin che tende a scendere ETH, ma così come tutto il mercato altcoin, sta in berra sostanzialmente, cioè sta giù, non si muove, non fa niente. Ed è quindi ovvio che da una parte mi scarichi, dall'altra non c'è compensazione, infatti va a vedere qua il totale, è negativo, il prezzo sta a terra. Può essere interessante per accumulare? Sì, potenzialmente sì. Aspettandomi settembre, ottobre, novembre, prevalentemente settembre, ottobre come mesi up, potenzialmente ci può essere una forte ripresa anche sul mercato altcoin, no? Fare una sorta di rally, ultima corsa, bitcoin va a colpire i nostri 80k, quindi se ne torna su qui, lateralizza un po', qua il canale discendente, spacca, va su, colpisce, questo è il mio target onestamente, io sto sugli 80k, 80-90k come scenario più bull, 100k non li vedo attualmente perché il prossimo anno per me, tutta la prima parte è il prossimo anno, quindi fino a settembre-ottobre del prossimo anno, quindi da gennaio 2025 a settembre 2025, secondo me sarà prevalentemente un mercato ribassista, perché i dati macroeconomici mi dicono questo, mi dicono che c'è una recessione potenziale, poi ci sono abbassamenti dei tassi di interesse, cioè si creano opportunità, per me il 2025 è un anno di grandi opportunità, lo dico così perché se no uno dice ribassista, tutti si mettono a piangere con i fazzolettini, no, per me significa opportunità, quando il mercato è in rosso significa sconti e quando significa sconti io là mi diverto, motivo per cui sto tenendo un 50% abbondante della mia liquidità fuori dal mercato, proprio perché voglio godere in questa fase, comprare e divertirmi poi nella fase successiva, quindi fine del prossimo anno. Anche con l'analisi ciclica, tutto quello che vogliamo ragazzi, ma i mercati sono volubili, cambiano in base a che cosa? In base a quello che succede. Ora mettiamo giusto un grafico mensile, no, questo è settimanale, così da avere un'idea sul mensile che cosa è successo, vediamo che sul mensile questa è la situazione, quindi qui è molto più lampante il canale discendente rispetto al giornaliero, e questa roba qui io la vedo tra virgolette come questa roba qui, quindi mi aspetto poi un ritorno tipo V-shape, soprattutto perché comunque ha retto questa shadow, è stata molto lunga comunque. Il minimo l'ha fatto a 49k, quello prima il minimo era un 53k, quindi siamo comunque un bel ritracciamento, cioè c'è un bel movimento, qua c'è uno sconto così ad occhio, dall'All Time Maya qua sarà un 20-30%, non è male, non è assolutamente male. Può ancora scendere per carità? Sì, c'è nessuno lo sa che cosa farà il prezzo, però personalmente con quello che mi aspetto è più probabile che ci sia un'inversione, anche se molti pensano il contrario, però per me è più probabile in vista appunto dei dati, di quello che ho detto in ottica di movimento di liquidità. Poi chiaramente col senno di poi saremo tutti bravi, quindi questo è quello che mi aspetto, se funzionerà così bene, se non funzionerà così non importa, scende, vado a comprare perché tanto ho già parcheggiato liquidità, come hai visto ho venduto parecchio verso i top, quindi a me va bene così. Diamo un'occhiata anche a un grafico, eccolo qua, il Bitcoin Monthly Returns, magari ti lascio qua sotto il link, è di Coin Glass, su Coin Glass trovi veramente un sacco di dati, analisi, le ho già fatti vedere un po' in passato, molto utili. Questo che cosa rappresenta? Rappresenta sostanzialmente dal 2013 ad oggi, come puoi vedere qui, l'andamento a chiusura di ogni mese. Noi arriviamo alla parte che ci interessa di più, cioè quella attuale. Vediamo che settembre tendenzialmente è stato un mese ribassista, motivo per cui molti pensano che appunto sia ribassista. Agosto un mese ribassista anche lui, a parte qualche anno che è andato bene. Luglio tendenzialmente vediamo che invece è stato un mese up. Ora in questa fase oggi, che cosa vediamo qua? Vediamo un luglio flat, che è stato piatto. Un agosto in rosso, io mi aspetto un settembre che sia o flat, o comunque tendente a salire per tutte le cose che ho già detto, qui in ottica di liquidità. E poi ottobre invece mi aspetto un bel mese pieno. E' qui che io sto guardando per un potenziale target a 80k. Però ovviamente, ripeto, nessuno può dirlo, nessuno può saperlo. Per non sapere né leggere né scrivere, come dico io, è molto più conveniente posizionarsi long term, perché abbiamo studiato bitcoin, crediamo che bitcoin possa essere un asset sensato nel lungo termine, perfetto, mi posiziono a lungo termine. Ad oggi la situazione è questa, il mercato è piatto tendente a ribasso, il mercato globale invece se la passa bene, abbiamo l'SP500 che sigla nuovi massimi, abbiamo l'oro che è To The Moon, anche lui che continua a salire, quindi abbiamo un mercato tendenzialmente rialzista in queste fasi, nonostante bitcoin sia lateralizzando un po' in queste fasi, vediamo intorno ai 60k, però diciamo che questi due mesi che arriveranno, secondo me saranno molto interessanti. Nel frattempo attendiamo con pazienza, io continuo a fare i miei piani d'accumulo, continuo a piazzarmi negli ordini strategici, ogni volta che ritorniamo sui 50k, in modo da andare a riaccumulare, perché mi aspetto appunto un target sugli 80k. Questa è la mia personale visione ovviamente, non è da intendersi come consiglio finanziario, ognuno deve fare le proprie valutazioni. Per oggi direi che è tutto, se hai domande, cose da chiedermi, qua sotto nei commenti, sbizzarrisciti, scrivimi quello che vuoi, chiedimi quello che vuoi, ti ricordo ti lascio il link di Pionex, mi raccomando solo 20 posti disponibili, per prendere questo bonus di 50 dollari utilizzabili, ti prendi tutti i profitti, hai le perdite tappate, quindi può essere molto interessante per avviare un bot, e speculare in questa fase, risk free, quindi a rischio zero, perché il rischio se lo assume, chiaramente Pionex per noi, e noi ci prendiamo i profitti. Qua sotto ti lascio il link. Ti ringrazio per se sei stato qui con me, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, per rimanere aggiornato, con analisi, strategie, news, cioè veramente, tutto quello che ti serve per affrontare il mondo della finanza. Un abbraccio, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.